Bella a tutti, belli e brutti con il vostro Naked che vi parla ragazzi, siamo ritornati con un nuovo video Signori, oggi un aggiornamento succosissimo da parte di Treyarch per Call of Duty Black Ops 4 Ogni tanto anche loro si svegliano la mattina e dicono Ciao, oggi cosa posso fare per poter aggiornare questo gioco? Dato che stiamo perdendo interesse da parte della Call of Duty Community Introduciamo una nuova modalità in multiplayer del nome Accumulo di San Patrizio Ok ragazzi, come ogni anno Call of Duty festeggia San Patrizio e stiamo per provare la nuova modalità in esclusiva mondiale Ok raga, il caso ha voluto pure che provassimo in prima partita oltretutto Contraband Uragano La nuova modalità, no che cazzo nuova modalità Il remake della mappa Contraband con un po' di pioggia, un po' di vento, una bella tempesta Come solito appunto che succede in un'isola tropicale, noi come di consueto utilizziamo il nostro prophet che non delude mai ragazzi Ok raga, concettualmente devo andare a killare la gente e prendere i quadrifogli Che appunto escono appunto quando killi e portare... oddio aspetta Sono un po' È un po' di giorni che non gioco, sono un pelo, un pelo, ma giusto un pelo, originito Uh, quadrifoglio, c'è un picco negato Questi quadrifogli scommetto, quindi poi li devo portare... ah ok Vado giù, raccolgo e via, adesso saranno dietro, come ho trovato spawn sicuro come loro Questo lo voglio... ah ma ce ne... ma dai ma... Nell'angolino... vado a giocare solo per voi Ma perché non mi si ferma la corsa questo brutto... finché ho io agnitos Il mio sticker si... ogni tanto si rincoglionisce a livelli devastanti Non ho ancora capito il perché Ma va benissimo così Allora, ce ne... ah ok, dovevo solo capire se effettivamente muoio li perdo Penso proprio di sì, eh, sta roba, quindi In realtà quando siamo già un... per un buon numero di... Madonna, in acqua era tutto un po' più strano Torco ucciso C'è doveva essere un altro qua Nooo Cappero Ah ma ce n'era un altro che mi ha ucciso Ha buttato io a quattro quadrifogli, benissimo Anche perché la... la cesta qua dei quadrifogli si sposta, si E' interessante modalità, eh Assolutamente il mio personaggio, non so perché, si ferma, si stoppa Devi correre, eh, se no è un problema Nel filo spinato in posizione Nemico eliminato Beccata Io so cosa vi dico, queste qua le piazzo subito No! E qua mi sono dedicato a depositare i quadrifogli e sono morto Mi sento proprio un pelo... un pelozzo cuginito, mi sento Oddio, quello... c'è Ok, finito le munizioni, via, un attimo Sorry, 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 just me, just me Ah no, madonna, quanti diamine erano Eh no, eh, non mi freghi adesso, eh Quindi sono tutti lì Ok, sono spawnati dall'altra parte Io ho il Tempest e lo uso Che fai? Non lo usi? Certo che lo usi Metto un filo spinato Costruisco una barricata No, no, non morirmi! Oddio Dai, 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 dai Punto di consegno modificato Uh, ok Beccata questo, quanti ne ho? 4, 5, madonna, devo andare Devo andare a depositarli, l'ho detto Devo andare, questo qua si è fatto 5 quadrifogli così Alla grande, ragazzi Vedi, qua, se te li tieni troppo E poi li vai a perdere Gli fai un regalo non indifferente Non sai Uh, ma quanti ce ne sono qua? Ma quanti ce ne sono qua? Devo andare a depositare Come ci vado, no? Ok Quanti ce ne ho? Uno, mica ne avevo raccolti qualcuno Ok, ma sono tutti qua Ok Punto di consegno modificato Nemico in movimento Via da qua, un attimo Ok Oddio Madonna, se Madonna Devo andare a depositare Ce ne ho 6 Dove cavolo è? No, non ce la farò mai, ragazzi Bisogna che la squadra mi copri Mi aiuti Faccio qualcosa Ok No Non adesso Non adesso Resisti due secondi No, dietro No Ce ne avevo 39 Ce ne avevo No Eccolo E niente, ragazzi Questa andiamo proprio bellamente a perdere Perché Vabbè Oltre al fatto che Vabbè Ho il doppio di punti E gli altri Non è che stanno Non sono molto in forma I players della mia squadra Se qua hanno chiamato il mondo Vedete un po' voi Come dobbiamo fare Come dobbiamo fare qua Sta diventando un po' problematico adesso Alquanto problematico Eccolo Eccolo Non posso camminare in giro Perché Mi trucidano Come se fossi un panetto di burro E niente, ragazzi Devo stare nascosto Non vedo altra soluzione Cioè Ripeto Qua Adesso è un casino Questo arriverà qua Sicuro Ok Posso uscire Adesso Ormai mi sa che qua Hanno vinta Non riesco mai a trovare Sono sempre Vedete la gente con chi sto giocando Sparano a casa Se non manco come si chiamano Oh madonna Ma quanti ce ne sono qua Madonna Devo depositare subito Oh sì 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 Ho fatto bingo Oddio non me lo aspettavo RCXD nemico in zona Corretto osile in funzione No Che sfortuna Dai Via No il cane No Macchina da guerra Ok raga Nonostante tutti i miei sforzi Ho perso Quattro anni di vita Per questa partita Non siamo riusciti comunque a vincere Quindi raga Fatemi sapere Se avete giocato Questa modalità Se Vi può interessare Se vi Vi può piacere A me ragazzi Devo dire È molto Interessante È un po' Una Variante È un po' Una variante Di Uccisione confermata Un po' Anche Particolare Perché Il concetto è lo stesso Cioè Recuperare le piasterine Che in questo caso Sono i quadrifogli Soprattutto che Uccisione confermata Basta solo raccogliere Invece Vado di raccogliere E portarla Appunto Nella Cesta di San Patrizio Per far punti Quindi ragazzi Come al solito Se il video vi è piaciuto Lasciate un like Se non vi è piaciuto Lasciate un like Ci vediamo al prossimo video Bella